Benvenuti a questo incontro in preparazione alla seconda domenica di Avvento. Come ben sappiamo, il periodo dell'Avvento è dominato da tre grandi figure, il profeta Isaia, Giovanni il Battista, ed in maniera particolare, specialmente dal 17 di dicembre in poi, dalla figura di Maria. In questa seconda domenica di Avvento compare il grande Giovanni Battista e lo incontriamo nel Vangelo di Luca del capitolo 3, versetti 1-6. Luca all'inizio di questo terzo capitolo fa come una breve rassegna dei grandi della terra, partendo dall'imperatore, dal suo procuratore Ponzio Pilato, dai re che governano la Giudea e la Galilea, ma la parola di Dio non è attratta da questo mondo, dalle corti delle re o dalle curie dei sacerdoti, ma si rivolge piuttosto ad una figura oscura, ad un personaggio oscuro, Giovanni il Battista, e il Vangelo ci dice proprio questa frase, la parola di Dio venne su Giovanni il Battista, figlio di Zaccaria, nel deserto. Dio non si volge ai grandi della storia, non ama le curie e le corti regali, quanto piuttosto i cuori che si dispongono all'accoglienza della sua parola e questa parola si posa e riempie il cuore di Giovanni il Battista, mentre lasciato il mondo si era rifugiato nel deserto. Allora la brevissima sottolineatura che vorrei fare è proprio questa, ecco la categoria del deserto che ci richiama Giovanni il Battista, che cos'è? Abbiamo di fronte anche a noi il prossimo Natale che il mondo commerciale sta ormai da tanti anni propagandando e invece il deserto ci parla di altri eventi e di altri Natali, ci parla di essenzialità, ci parla di vuoti da riempire con solidarietà, con amore, con la ricerca della pace, della giustizia. Il deserto è proprio una categoria spirituale che noi specialmente in questo periodo di preparazione all'incontro con il Signore dobbiamo sottolineare, non sono le cose che riempiranno il cuore dell'uomo, ma solo la presenza del Signore e la Sua parola. E questo è anche un po' l'augurio che dobbiamo farci, che il prossimo Natale sia la riscoperta davvero di questi valori di convivialità anche, ma soprattutto di solidarietà, di amore e di pace. E con questo vi lascio al prossimo incontro.